Grazie a tutti. Del fatto che si offende il ruolo del consigliere regionale quando si dà la parola ai cittadini vuol dire che non ha capito nulla di quello che è stato mandato qui a fare ed è una cosa secondo me molto grave per un motivo semplice, per un motivo molto molto semplice perché noi abbiamo una visione ovvero della democrazia diretta poi c'è chi giustamente ha una visione della democrazia rappresentativa. E' giusto che ognuno abbia le sue differenze, è giusto noi siamo... Per favore consigliere Bruni oggi è un po' discolo, al di là di questo però consigliere Buffagni si rivolga alla presidenza così evitiamo che la gente, che gli altri consiglieri la possano disturbare. Ma non mi disturba assolutamente invece, non mi dà assolutamente fastidio. Noi studiamo e stranamente vi abbiamo rimesso a disposizione un articolo della Costituzione che forse era stato un po' accantonato e noi siccome noi non la vogliamo modificare al contrario di un certo dittatore che fa le cose insomma in maniera molto secondo noi scorretta nei confronti di una democrazia, beh ci è sembrato l'occasione per discutere. Poi ripeto è giusto che chi la pensa diversamente lo esprima, secondo me non è un problema però io mi aspetto un minimo di correttezza, almeno non dico istituzionale ma almeno morale. Quando si parla di dare una fiducia io vorrei ricordarvi che il regolamento del Consiglio regionale prevede che per questo tipo di provvedimento sia necessaria una maggioranza di due terzi. Quindi siccome chi vince prende una maggioranza di 49 voti non mi sembra un voto di fiducia, perdonatemi, quindi non stiamo semplicemente parlando di un voto di due terzi, nel momento in cui il provvedimento è con una modalità di voto che il Movimento 5 Stelle chiede da anni, un quesito sostenibile e non incostituzionale, poi giustamente ci stanno gli attacchi, io davvero non li critico, però oggettivamente allora quando diciamo no, ah siete sempre quelli del no, noi siamo irresponsabili, una volta che invece noi prendiamo una decisione perché è nel nostro programma elettorale quella di dare la parola ai cittadini, siamo ovviamente criticati. Va bene, ci può stare, ci spiace soltanto che ci siano queste incoerenze perché ad esempio se banalmente voi aveste rispettato gli impegni che avete preso con i cittadini durante le elezioni, a quest'ora dei soldi che servono per fare il referendum, avremmo avuto almeno un milione e duecentomila euro in più vostri, almeno, noi avevamo preso questo impegno, non aspettiamo una legge per rispettarlo, abbiamo messo a disposizione 500 mila euro, potevano esserci il vostro milione e due, dov'è il problema? E invece no, grandi moralizzatori, grandi, poi quando ci si tocca portafoglio, no, lì non è fiducia al Presidente Marone, lì è salviamo il bottino, e allora noi questo sembra un atteggiamento incoerente, poi ripeto, siccome i cittadini vi danno fiducia, io non ci posso far nulla, mi faccio qualche domanda, anzi per la verità, però insomma, al di là di questo, qualcuno citava prima il tema referendum, questo è consultivo, quindi è un referendum diverso, ma voi vi rendete conto che noi siamo in un paese nel quale siamo dovuti arrivare a fare un referendum per difendere l'acqua pubblica? Cioè ci rendiamo conto che siamo un paese nel quale abbiamo dovuto chiedere ai cittadini di difendere un bene primario, altrimenti qualcuno lo privatizzava, e tuttora, tuttora si sta cercando di utilizzarlo a scopo di lucro, e poi, però, attenzione, guai, all'Expo siamo tutti lì a raccontare le favole sull'importanza degli alimenti, sull'acqua, tutte queste belle parole, poi se non arrivava la volontà dei cittadini a metterne l'angolo interessi di pochi, noi a quest'ora avremmo avuto anche una situazione peggiore nella gestione dell'acqua, e allora, ma benissimo, ma guardate, anche noi li abbiamo firmati, ma c'è un problema, qui si parla del merito della vicenda, e noi siamo per l'opportunità di permettere ai cittadini di esprimersi, bene o male. Per quanto riguarda il tema delle competenze, noi, giustamente, qualcuno ha specificato prima che noi chiedevamo alcune tematiche, ebbene, in effetti, nella discussione politica vengono fuori delle osservazioni corrette, noi siamo in 9 su 80, ve lo ricordo, cioè, poi rompiamo le scatole forse come tutta l'opposizione, questo lo so, però, oggettivamente, siamo solo 9, siamo solo 9, quindi abbiamo dovuto, per forza di cose, anche adeguarci a delle richieste, però abbiamo presentato un emendamento nel quale andiamo a specificare quali sono le competenze che chiediamo, ovvero tutte quelle a disposizione previste dalla Costituzione, cioè, sbagliato, giusto, va bene, discutiamone, però esiste la possibilità, esiste la tematica, quindi forse è il caso di riflettere anche su questo passaggio. Poi, io capisco che c'è chi preferisce togliere la facoltà del voto ai cittadini, lo so, perché il caso delle province ce l'ha insegnato, è una visione politica diversa, è legittimo, no? Se no, saremo tutti nello stesso partito, noi non condividiamo l'idea del partito della nazione, che invece qualcuno di voi crede, bene, noi crediamo che i cittadini debbano avere la parola, voi no, e vabbè, starà loro decidere. Di conseguenza, davvero, noi abbiamo chi fa le riforme costituzionali con un Parlamento incostituzionale, con dei premi di maggioranza che sono insostenibili, dato che avevamo preso praticamente gli stessi voti, con dei parlamentari non eletti con le preferenze, quindi anche qui noi sappiamo che c'è un problema qua all'interno del Consiglio regionale, che noi dobbiamo rispondere a delle persone che hanno messo il nostro cognome, quindi noi rispondiamo ai territori, quindi ci sono sensibilità diverse. No, guarda, i due euro dei cinesi non fanno testo, scusatemi, cioè mi sembra che adesso parlare... Scusi, Presidente, ma sa, quando mi parlano dei cittadini che decidono, due euro i cinesi, i Rom, per poi vedere quello che succede a Roma, mi sembra che vuol dire che non hai neanche un minimo di ritegno, cioè voglio dire, attacca su altri temi, ma non su questo. E l'ultima cosa che ci tengo a specificare è questa. Noi non siamo in vendita, noi non siamo in vendita, abbiamo fatto una scelta nel merito e da domani mattina noi saremo ancora a fare opposizione vera, come abbiamo fatto fino a ieri il Presidente Maroni e se per caso voi pensate che lui non la pensi così bene, lo avvisiamo, noi non è che cambia nulla, non abbiamo chiesto direttori generali, non abbiamo chiesto dirigenti in aller, non abbiamo chiesto qualcosa che ci torna utile come invece qualcun altro fa, noi abbiamo chiesto semplicemente che venissero interpellati i cittadini. Consigliere Micheli, per favore. C'ha 15 anni, ci sta, non è che insomma... Consigliere Buffagni, si rivolga alla Presidenza e... Io mi sono rivolto a lei dicendole che c'ha 15 anni, cioè voglio dire, è legittimo? No, non è legittimo. Perché se la facessimo noi i grillini, arrivano i fenomeni, voglio dire... Ho capito, non è legittimo, per favore concluda il suo intervento se lo deve concludere. Però, visto che noi siamo sempre quelli criticati, mi aspetto dai moralizzatori un minimo di decenza. Invece quando non sanno più che pesci prendere, si attaccano alle peggio cose. Noi, 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 guardi, caro Presidente Alfieri... Consigliere Alfieri, per favore, fate terminare l'intervento al Consigliere Buffagni. Io quello che dico è, noi siamo comandati dai cittadini, loro evidentemente sono eterodiretti dal Presidente Renzi che decide da solo. È legittimo, va bene, ognuno risponde al proprio elettorato. Mi spiace, devi sciacquarti la bocca prima di parlare di quelle cose, davvero, se non sai di cosa parla... Consigliere Buffagni, per favore. Ho capito, Presidente, ma se dicono eresie io cosa posso fare? Una volta che possiamo fare un po' di dibattito ce lo lasci fare, voglio dire. Prego. Quindi, noi siamo convinti che dar la parola ai cittadini sia una cosa giusta. Abbiamo proposto un metodo per risparmiare dei soldi, poi se voi la prossima volta neanche ci farete andare a votare perché tanto vi prendete il Governo della Regione, a me spiace. Spero che questo non succeda, anche se so che è nei vostri disegni, però noi siamo convinti che il popolo è sovrano. Lo dice la Costituzione, la difendiamo nel merito e nei fatti e rimaniamo l'unica forza politica forse coerente. Grazie. Grazie.